E' stato fissato per martedì prossimo a Pescara il nuovo incontro tra sindacati, amministrazione comunale di Roseto e Regione Abruzzo sulla vertenza Rorli-Salpa. Al momento si è fermi all'ultimo incontro tra le parti che c'è stato prima di Natale, il 18 dicembre, all'Aquila. Un tavolo di confronto a cui ha partecipato anche l'azienda, durato circa quattro ore, al termine del quale c'era stato l'impegno da parte di Salpa ad investire sul sito Teramano 5 milioni di euro attraverso la partecipazione al bando del PSR 2014-2020 e inoltre a non modificare le forme contrattuali in vista di una riorganizzazione interna. Salpa è una società agricola che è nata due anni e mezzo fa con lo scopo di aggregare l'indotto del territorio teramano e collegarlo all'attività di trasformazione dei prodotti ortofrutticoli locali, un'operazione nata da un'altra vertenza e che ha avuto l'appoggio pieno dei sindacati. Oggi l'azienda conta 313 soci e 200 occupati fissi a tempo indeterminato, 500 stagionali storici e altri 200 lavoratori stagionali assunti di recente. Il timore dei sindacati è che una parte della produzione possa essere spostata dall'anno e quindi si chiede chiarezza rispetto al piano industriale per il futuro. Il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo, ribadisce l'importanza di questa azienda per il tessuto sociale di Roseto e auspica un riscontro positivo nel prossimo incontro. Quindi martedì mattina dialogheremo insieme a Giovanni Lolli con i sindacati per sapere se rispetto agli accordi, alle intese anche di massima intercorse all'Aquila ci sono state novità in questi mesi oppure se, come credo, perché questo mi fa pensare il disagio dei sindacati, la convocazione dei sindacati, la richiesta di incontro dei sindacati mi fa pensare questo, se invece la situazione è ancora statica. Mi ricordo che in quell'occasione l'azienda prese l'impegno di riaprire un dialogo con i sindacati stessi aziendali in azienda per soprattutto sbloccare la tematica della mancanza di un piano industriale e soprattutto di un contratto aziendale. Per Roseto è una risorsa straordinaria, tra l'altro sta a Roseto da 60 anni, rappresenta una risorsa per la nostra città enorme, noi siamo grati alla salpa che sta nel nostro territorio è chiaro che proprio per la sua importanza un minimo allarme suscita subito grandi interessi in città e il sindaco deve raccogliere questo grande interesse e essere presente a queste riunioni.